Salvatore Riggio, bivongese, però vive in Australia. È stata l'occasione per tornare in Calabria, per tornare a Bivongi, in quanto alla regione Calabria c'è stato questi due giorni della consulta dove sono arrivati a Catanzara, alla regione, i calabresi, rappresentanti dei calabresi di cinque continenti. Salvatore rappresenta l'Australia, il Western Australia. Diciamo che è un'esperienza nuova per me, questa della consulta, comunque molto importante, positiva e fra le altre cose interessante. Mi preme prima di tutto ringraziare più che altro e mettere in risalto la figura di chi è il presidente della consulta e poi il presidente della regione Calabria, Oliverio, con l'aiuto poi dell'onorevole Rolandino Greco che hanno lavorato molto bene. Onestamente è una delle prime volte che ci hanno consulta che effettivamente opera sia nell'interesse di noi emigrati all'estero e sia per quelli che sono gli interessi del territorio, della Calabria, perché spingono molto per promuovere il territorio. Non è un viaggio di piacere perché abbiamo l'opportunità di tornare un po' nelle nostre famiglie, nei nostri amici, al paese, è vero, però sono due o tre giorni di lavoro stressante veramente. Si parte con dei progetti, progetti che pare che la regione abbia finanziato per questi progetti un 300 mila euro. Abbiamo un primo fondo, un primo stanziamento per quelli che sono gli studenti dall'estero per venire a frequentare il contesto calabrese, la storia e le lingue italiane. Vengono all'università proprio? Si, e frequentano due o tre settimane. Una parte la gestisce l'Università di Cosenza e un'altra la Reggio Calabria. C'è di nuovo, c'è questo ventaglio sulla partecipazione di studenti emigrati dall'estero in Calabria, adesso si allarga pure al famoso discorso delle diete mediterranee. Cioè se c'è, ci sono 30 mila euro che vengono assegnati per favorire la partecipazione di giovani che operano, che sono interessati a operare nel settore della ristorazione, chef in poche parole, che vengono qua ad imparare, a conoscere i prodotti delle diete mediterranee e imparare pure come si preparano, come si cucinano. Questa è una cosa molto importante che apre ad altre professionalità in futuro che vedo molto positivamente. Quello dei progetti assegnano una media di 25 mila euro su progetti proposti dalle associazioni che siano iscritte nella post registro regionale, l'albo regionale delle associazioni operanti all'estero e anche in Italia. Questi progetti ce ne sono di diverse tipologie, c'è chi opera nel settore della storia o chi nelle radici di ritorno come momento turistico, questo riguarda l'Argentina ad esempio, o le diete mediterranee con un progetto in Australia. Sono progetti che propone l'associazione e che la Regione Calabria sponsorizza finanze affinché ci sia questa proposizione del positivo. La novità che hanno messo quest'anno sia il Presidente e l'On. Orlandino Greco, sia il Direttivo della Consulta, c'è una grande manifestazione, finanziata anche questa con mi pare 50 mila euro, una volta all'anno c'è questa grande manifestazione della Calabria in una città del mondo, le parti dove la comunità calabrese è organizzata è presente numericamente, a tal proposto ho visto un Presidente Oliverio commosso quasi alle lacrime quando gli è stata offerta una foto della comunità argentina durante la sua vista là, mi pare a Buenos Aires. Diciamo pure che questa vista che ha fatto il Presidente è stata a Buenos Aires, perché è incuriosito poi della comunità bivongesi di La Plata quando ha saputo che c'è una realtà laddove c'è una scuola di italiano creata dai bivongesi, dal centro culturale bivongesi, qualcosa unica al mondo, perché tra le altre cose è una scuola riconosciuta anche dal governo argentino, ecco la grande emozione quando è stato anche lì a La Plata in vista nella scuola, eri andato a giocare con i bambini. Sì, è vero, però sapevo di questa presenza del Presidente in Argentina, però non sapevo questo aspetto emotivo del Presidente, ho conosciuto un Presidente umano, quello che era abituato ad altre forme di figure politiche, questo è diverso, mi piace per la sua umanità e per come si lavora.